Ciao a tutti, nell'ultimo video, quello degli auguri di Natale, ho menzionato la Siria e ho detto che parlerò di questo argomento. Prima di addentrarmi sull'argomento che farò molto brevemente oggi, vorrei che facessimo un piccolo passo indietro per vedere qual è la composizione demografica della Siria, prima di tutto. La Siria è un paese molto eterogeneo, di maggioranza islamica, diviso però tra sunniti e sciiti, che sono due fazioni islamiche che si odiano abbastanza. Dopo ci sono i kurdi, soprattutto nel nord della Siria, ci sono i turchi, anche questi nel nord della Siria, e cristiani. Ho letto su Wikipedia, mi pare che il 13% della popolazione sono cristiani. Perché vi dico questo? Per farvi capire che è un calderone, un possibile calderone, è una situazione molto complessa. Con il regime di Assad, che quasi sicuramente possiamo definire poco democratico, questo amalgama di popoli, di religioni, ha sempre vissuto pacificamente. Ci sono state, chiaramente alcune minoranze possono lamentarsi di qualche violazione di diritti umani, magari non hanno tutte le libertà degli altri. Per esempio so che il presidente della Siria deve essere musulmano. Però, a parte questo, è un paese che ha sempre vissuto pacificamente, con tutti i suoi problemi, però tutta la popolazione è andata sempre d'accordo. Dico questo perché, per dire che toccare un paese del genere è rischiosissimo. Quando si va a toccare, anzi a scatenare una rivoluzione in un paese così, si rischia il caos come la Libia, o forse anche peggiore. Si rischia una persecuzione, soprattutto a danni delle minoranze, in cui parliamo di cristiani. A proposito di questa rivoluzione, c'è da dire che non è stata spontanea. Questa rivoluzione è stata stimolata e sovvenzionata dai paesi del Golfo e anche dai paesi occidentali, con la vendita di armi, con gli addestramenti, eccetera. In particolare, faccio l'esempio di Aleppo, che è una città che è sempre stata filogovernativa. C'è un articolo nel sito del The Guardian, un giornale inglese, del 2012, che ho trovato, in cui intervistano i ribelli, i cosiddetti ribelli, in cui i ribelli si vantano dicendo che circa il 30% della popolazione civile di Aleppo è dalla loro parte. Considerato che i ribelli, vantandosi, probabilmente hanno gonfiato un po' il numero, ma anche se prendiamo per buono questo 30%, significa che il 70% non era con loro. In effetti, tutta questa ribellione, questa primavera araba siriana, chiamiamola così, ha avuto davvero poco successo nelle grandi città. È stata più una ribellione delle campagne e specialmente dovuta agli islamisti stranieri, che sono giunti dalla Turchia e dall'Arabia Saudita principalmente. Questo è già il primo mito da sfatare, ossia di una rivoluzione spontanea. In realtà, ad Aleppo non ha mai voluto ribellarsi. Sono arrivati i ribelli da fuori. Poi, questi ribelli che noi chiamiamo moderati, tanto moderati, non sono. Perché? Perché mentre con Assad c'è la libertà religiosa, nelle aree controllate da questi ribelli non c'è assolutamente nessuna libertà. Non sto parlando solo dello Stato islamico, sto parlando proprio dei ribelli che noi in Occidente chiamiamo moderati. In queste zone, questi ribelli praticano la legge islamica. Se notate, non ci sono nemmeno giornalisti occidentali in queste aree, a meno che non siano esistessi musulmani. E quindi anche l'informazione che noi otteniamo è molto parziale. Anzi, diciamo pure che il conflitto siriano è unico. E' unico nel suo genere, proprio per questa caratteristica che nell'area controllata dai ribelli, da una delle due parti in guerra, non abbiamo giornalisti nostri. Non abbiamo giornalisti lì. Perché gli verrebbe sgozzata la testa? Questo è molto semplice. Non ci sono. E i giornalisti occidentali che trattano il conflitto sono, se va bene, a Damasco, ma anche lì molto pochi. E per lo più sono a Beirut, in Libano. Non c'è nessun giornalista occidentale sul campo, specialmente nelle aree controllate dai ribelli. Anzi, interessate a vedere alcuni film, no, alcuni video della CNN. Ricordo una giornalista della CNN che è stata sia nell'area controllata da Assad, del governo, sia in quella controllata dai ribelli. E vedere come cambiava il suo abbigliamento. Quando era nelle zone dei ribelli era tutta coperta, non mi ricordo neanche come si chiama il vestito che copre interamente, lascia solo la fascia degli occhi scoperta. Allora, stavo divagando. Comunque, il fatto di non avere giornalisti là significa che noi, cioè la stampa occidentale, che vuole sopportare i ribelli, credendo che sia una rivoluzione democratica, prende per buono tutto quello che viene fuori da quelle aree. Quindi i ribelli fanno le loro agenzie, i loro siti internet, fanno i loro comunicati, fanno i loro video, tutte manipolazioni, tutti i parziali. E noi crediamo ciecamente. Per esempio, qualche giorno fa, quando erano gli ultimi giorni prima della presa totale di Aleppo, si era detto che il governo aveva massacrato, fatto veramente uno sterminio, di 82 civili. Notate la precisione, 82 civili. Quindi sanno esattamente quanti civili sono stati sterminati, però non c'è nessun video, non sappiamo i nomi. C'è qualche foto che mostra, purtroppo, dei corpi morti sulla strada, però non sappiamo chi li ha uccisi. Adesso che i soldati filogovernativi sono entrati a Aleppo, hanno trovato che i prigionieri, i soldati, e anche i civili, che erano prigionieri dei ribelli islamici, un centinaio di questi sono stati uccisi. Sì, li hanno proprio trovati, e questo nel silenzio generale. Questi invece sono documentati, ci sono le foto. E vabbè, questo è quello che volevo dirvi. Io non sono un esperto di queste cose, lo metto in chiaro, però tutto quello che vi dico l'ho trovato, sì, nei mezzi russi, però dopo ho verificato tutte le informazioni nei mezzi occidentali. Infatti ho citato l'articolo di The Guardian, ma dopo in descrizione metto anche un paio di siti molto interessanti, anche in italiano, che vi consiglio di leggere, alcuni anche legati al Vaticano, in cui si racconta una realtà che non è quella che voi sapete. Il resto delle informazioni le trovate in Wikipedia, quindi sono cose che veramente ognuno di voi può fare. Le chiudo qua, se avete voglia andate a vedervi, e ecco, vi dico questo per così iniziate a mettere in dubbio quello che vi viene detto, e nei prossimi giorni vi darò altri esempi di propaganda occidentale, magari lasciando da parte la Siria per un po', e lasciamo che si rimettano in piedi. Ciao, ciao!